Noi dobbiamo solo giocare la nostra partita, sapendo che possiamo giocare bene e possiamo fare una grande partita. Credo che debba essere solo questo il nostro pensiero, senza andare oltre, perché è comunque una partita di calcio. Il Tera è forte, perché come ha detto Giorgio, ha anche tanti giocatori in panchina bravissimi, però anche noi, se siamo arrivati lì, siamo abbastanza forti e quindi ci giocheremo la nostra partita. Sicuramente Sterling è un giocatore che è migliorato molto, è velocissimo, quindi è chiaro che bisognerà fare molta attenzione. Quindi dovremmo essere bravi nella fase difensiva, però credo che oltre a lui, non so chi giocherà a destra, poi Ken, sono giocatori davanti, sono tutti bravi, tutti con grandi qualità di velocità e tecnica. In Inghilterra c'è una grande passione per il calcio, c'è una grande passione in Italia. L'Inghilterra è stata molto sfortunata negli europei o mondiali passati, ha sempre avuto delle ottime squadre, come ha adesso. Una grande squadra, credo che sarà una bellissima partita davanti allo stadio pieno e credo che questa sia una notizia meravigliosa per gli amanti del calcio e quindi sarà un giorno bello, un giorno bello da giocare la partita. Sappiamo che hanno grandi qualità e quindi vedremo come andrà. Insomma, se arrivate in finale vuol dire che l'Inghilterra è una grande squadra. Spero, come ho detto prima, che i ragazzi si divertono ancora per 90 minuti domani e poi sostanziosa per tutto quello che hanno fatto, perché sono state delle partite difficili, alcune difficilissime. Non è mai stato niente così semplice, anche nel gruppo, siamo stati molto bravi a cercare di qualificarci prima, vincendo le prime due partite, però è stato un tragitto pieno di difficoltà e con grande fatica. Quindi io spero che la squadra continui a domani, possa divertire per 90 minuti e può andare in vacanza. Quindi un ultimo sforzo.